Ben tornati nel mio salotto. Partiamo subito con un esperimento. Chi è più bello, io o il mostro? Sì. Lo ripetiamo. Chi è più bello, Brad Pitt o io? Ok, dopo aver distrutto per sempre la mia autostima, vi dico subito che questo esperimento è un classico della psicologia e viene utilizzato per spiegare la legge del contrasto percettivo. Subito dopo la sigla. Subito dopo la sigla. Allora, vi ricordo di iscrivervi subito al canale e vi dico anche che la legge del contrasto in realtà è molto semplice. Cioè, quando ci vengono presentati due o più prodotti o oggetti in successione, in realtà siamo portati a percepire una differenza maggiore rispetto a quella che in realtà esiste. E come potete immaginare, l'utilizzo di questa legge nella vendita è molto diffuso. E questo è il motivo per cui voglio parlarne io stasera in maniera molto specifica. Perché se sei un commerciale, se sei un sales o volgarmente un venditore come me, o anche soltanto se tu volessi mettere in risalto la tua attività in qualche contesto, allora devi assolutamente conoscere uno dei principi chiave della comunicazione e della percezione umana. Il principio del contrasto, appunto, che influisce sulla differenza che avvertiamo tra due cose che ci vengono presentate una dopo l'altra e che ci spinge anche a valutare in maniera diversa un prodotto o un oggetto a seconda di quello che ci viene presentato prima. I clienti più scontenti sono la fonte principale del vostro apprendimento. Ma che vuol dire? Ve lo dico subito con un esempio. Vi è mai capitato di entrare in un negozio con la volontà di acquistare qualcosa per fare un buon affare? In realtà uscite dal negozio avendo acquistato qualcosa che costava molto di più. È capitato a me, per esempio, quando ho comprato questo gilet. Sono entrato in un negozio e dopo che il commesso se ne è fregato del mio no grazie, dopo che lui mi ha chiesto scusi, le serve una mano? Mi ha fatto vedere due gilet. Prima mi ha fatto vedere questo. Bello, morbido, ben rifinito, ben fatto, ma costava molto di più rispetto a quello che io volevo spendere. E subito dopo mi ha fatto vedere invece il gilet che avevo visto in vetrina, che comunque era carino, comunque era ben fatto, aveva un buon tessuto e costava anche esattamente quello che io volevo spendere. È stato facile. La vista del primo gilet ha condizionato la mia scelta e infatti l'ho comprato perché nel caso specifico avevo visto un gilet più bello, meglio rifinito mi ha fatto apparire il secondo addirittura un po' brutto, anche se era esattamente quello per cui ero entrato nel negozio ed era quello che io volevo comprare. Nell'attività di vendita la legge del contrasto ha un grande effetto e chi la adotta non fa altro che sedurre il proprio cliente, ma sedurre nell'accezione latina del verbo, cioè seducere, cioè attrarre o portare verso di sé o verso un altro punto di vista il cliente. E con questo vi ho anche spiegato il motivo per cui sto molto alla larga dai commessi gentili all'interno dei negozi, perché come diceva John Dryden, è meglio stare alla larga dall'esca piuttosto che poi di menarsi nella trappola. Che citazione! La legge del contrasto utilizzata come tecnica di vendita è un po' da considerarsi una manipolazione etica, nel senso che chi la subisce non avverte mai il condizionamento. È praticamente invisibile perché è l'effetto di una scelta autonoma fatta in base a degli stimoli e a delle percezioni personali. Avete mai letto Le armi della persuasione di Robert Cialdini? Ecco, lo psicologo che è quasi onnipresente in tutte quante le maggiori tecniche di vendita annovera quello del contrasto tra i principi fondamentali della percezione umana e ne conferma la validità attraverso tutta quanto una serie di ricerche empiriche che conduce personalmente. L'esempio che prendo in considerazione lui più spesso e che funziona sicuramente meglio di quello che vi ho presentato io all'inizio del video, possiamo in realtà riprodurlo tutti quanti. Basta prendere tre contenitori di acqua, uno con acqua fredda, uno con acqua a temperatura ambiente e uno con acqua calda. Immergiamo una mano nella vaschetta con acqua fredda, una mano nella vaschetta con acqua calda e poi immergiamole contemporaneamente nella vaschetta a temperatura ambiente. La mano che è immersa nell'acqua fredda sentirà l'acqua a temperatura ambiente come acqua calda, a differenza invece della mano che è immersa nell'acqua calda che immersa poi nell'acqua a temperatura ambiente la sentirà fredda. E questo riprova che anche fisicamente la stessa cosa può sembrare diversa rispetto all'evento che l'ha preceduta. È un po' anche il concetto della relatività di Einstein, secondo cui la maggior parte dei contesti e delle situazioni in cui ci muoviamo sono relativi e dipendono proprio dal nostro punto di vista. Ma gli esempi che hanno fatto antologia proprio sulla legge del contrasto in realtà sono tantissimi e riguardano tantissime situazioni. Per esempio l'Università dell'Arizona hanno coinvolto 227 studenti maschi che hanno considerato poco attraente una donna bellissima dopo avergli fatto vedere però delle foto di modelle strafighissime. E allo stesso modo nell'ambito del volontariato in Canada hanno dimostrato che le persone sono molto più propense a fare un favore che viene visto piccolo se prima gli è stato proposto in realtà una richiesta molto più pesante. Ma il concetto fondamentale della legge sul contrasto è proprio la possibilità di utilizzarlo nella comunicazione tra le persone. Quindi è possibile presentare un punto di vista differente e molto più positivo. Ora mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete mi piace o se non vi è piaciuto guardate un video di Barbara D'Urso. Ciao, alla prossima!